italiani buonasera il comitato tecnico scientifico ha confermato che zio mani tiene sempre la politica fuori dalle sue canzoni tuttavia questa volta ha fatto un'eccezione perché evidentemente abbiamo esagerato vado a bevere col buster che non sei booster bevo select no aperto il bitter siamo in fase 2 ripartire vergi il frigo cavo tutto che in penisso di birre buster che non sei booster bevo select no aperto il bitter siamo in fase 2 ripartire vergi il frigo cavo tutto che in penisso di birre basso in bottega dal buster ma trovo sera coi vetrine stuai se sei pieno di carta a questa canaglia che ha scritto che sei ben che rotto e vai è una leggenda qua in riva i schiavoni appena gira in cae l'identitudine governativa destanazione e attività alle gaccia vai sono stanco di corrugare e sopracciglio quando penso quando che me domando dove si è finito e il buon senso e il malgoverno italiano se è antico come la negromanzia siamo ancora tutti qua si però sarebbe da scampare via non vediamo l'ora di andare a capire se il sole indica ogni riva al mare invece come dice calibrometra non va tipo andare solo in figa del tuo mare se quasi sta ma non perde i bar solo take away se mi preoccupai incassai perchè se finio i schiai un mese fa tutti i pasticceri sarai in casa con cora e lievito in frigo se rivai tre bollette da pagare pensitetti che figo giriamo con la mascherina sul viso ogni giorno a tutte le ore manco male perchè gavè i schiai che spussa da cavo il fiore vado a bever col buster che non sei booster bevo select noap però il bitter siamo in fase 2 ripartire vergi frigo cavo tutto che in peniso dei bire buster che non sei booster bevo select noap però il bitter siamo in fase 2 ripartire vergi frigo cavo tutto che in peniso dei bire grazie a tutti